Musica Qui a Tramiscadora durante questa terza tappa del People's Poker Tour incontriamo un volto noto del poker, un professionista del giornalismo e Vittorio Lusbardi nella sua nuova veste di responsabile comunicazione di Bibette. Ciao Vittorio! Bibette, mi sono incollato proprio in emergenza a questa peccetta giusto ieri perché ieri ho cominciato. Quindi proprio sul campo, subito? Esatto, ho cominciato qui a Cranisca e sono molto contento non solo per Bibette che è una simpaticissima poker room bolognese fondata sull'economia del tortellino che io adoro, ma anche perché Cranisca ho cominciato io a lavorare in questo mondo e anche il PPT è nato qui. Quindi ci sono una serie di punti di inizio di nuove avventure che sono state tutte molto belle e molto fruttuose. Sì sì, esattamente, è una specie di circolarità. In questi anni, perché qui abbiamo cominciato nel marzo mi pare del 2010, è passato poco tempo, in verità è passato un secolo perché ci sono profonde innovazioni e novità sia nel mondo del gioco sia nello specifico del poker. Diciamo che l'epoca si iniziava, era il momento dell'entusiasmo, sembrava che non ci fossero problemi e così. Oggi la situazione è leggermente diversa, in particolare che è uno dei miei fili conduttori di questi ultimi mesi, questa crociata antigioco che sta montando da tante parti d'Italia e che alla lunga ci darà dei problemi. Quindi noi che facciamo informazione dobbiamo reagire, indipendentemente dalla casacca che portiamo. Certo, un'informazione consapevole, quindi proprio un compito sociale, socialdemocratico se vogliamo, dell'informazione anche in contesti che potrebbero essere spigolosi e che a volte lo sono rifatti. Esattamente, noi dobbiamo fare della buona informazione, opporre quelli che sono i dati reali del mondo del gioco e parlo del mondo del gioco in generale. Si comincia col Grattevinci che fa parte del gioco, si può finire con i grandi tornei di poker. Ecco, questo pianeta gioco che non va demonizzato, contrariamente a quello che sta accadendo adesso e noi opporremo dei dati reali alle tante balle, ai tanti dati drogati che ci arrivano dalla controparte. Non è vero che l'Italia è un paese di ludopatici e non è vero che noi stiamo rovinando l'Italia e disgraziatamente c'è chi lo sta sostenendo. Diciamo che in un contesto come quello del People's Poker Tour, dove prevale lo spirito di amicizia, di aggregazione, di fenomeno di gioco per tutti, anche per la famiglia, ecco qui parlare di gioco non sano mi sembra non solo ingiusto ma profondamente sbagliato. Certo, ha maggior ragione, ha maggior ragione perché ancora una volta il PPT si conferma grande poker spettacolo, si conferma un poker cordiale dove non ci si fa male ma dove si passano delle giornate meravigliose. E poi c'è il nuovo fenomeno che noi conosciamo molto bene dei circoli, c'è di un poker che torna nella base proprio, come una volta si giocava a briscola. Al bar sotto casa. Esattamente, al bar, quindi torna ad essere proprio a formato di paese, a formato di caffè e che sarà il grande anello di congiunzione con i grandi eventi. E anche lì si pratica un poker sano ben lontano dalle bischie o ben lontano da quell'aria sul fura che ancora è vero, c'è questa crociata. Circonda il poker comunque, è inegabile. Che ci circonda, ci circonda. Vittorio, io ti ringrazio e i ragazzi sono ancora dentro? Ragazzi sono ancora dentro, abbiamo ancora il nostro poker manager al quale avevamo affidato il compito di non lasciare la postazione, a meno che non gli sparassero dall'alto. Si sta presidiando. Si sta presidiando, deve resistere a tutti i costi. Perfetto, ti ringrazio, grazie mille. Grazie a te. Grazie a te.